Ciao amici, volevo ringraziare con questo video tutti gli amici di Tivossette e Vertigo che mi hanno ospitato nella puntata del lunedì e mi li hanno compreso e volevo augurare a tutti quanti quelli che guarderanno l'Italia di... ci auguriamo che sia una buona partita e che possiamo vincere e così, speriamo in una buona partita e di andare avanti nel mondiale che se ne ha bisogno per il resto tutto bene, sono stati giorni frenetici però è andato tutto bene insomma ciao, ancora un saluto ad Emiliano e agli amici di Vertigo e un abbraccio grande dal vostro amico Samuele, ciao 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 ciao